Adesso tutti vogliono risparmiare sulle bollette elettriche. L'unico punto Enel ufficiale di Favara ha la soluzione perfetta. Da noi effettui comodamente anche volture, subendri, cessazioni, nuovallacci, ratizzazioni, sia su Favara che su tutto il territorio nazionale. E soprattutto il risparmio. Vi aspettiamo tutti i giorni anche il sabato mattina in Viale Aldomoro 2527 Favara. Grazie per la visione!